Doveva vincere, lo ha fatto, recuperava comunque dei titolari che a Napoli non aveva e comunque si inizia a vedere un qualcosa di Juve. Sì, sono d'accordo con Mimmo, era la risposta che serviva in un momento così. Penso che abbiano fatto la partita giusta. Penso che Allegri sia anche contento di non aver subito gol, perché è sempre un po' il suo cruccio. Trovo che abbiano fatto molto bene gli esterni, perché il Malmo stringeva sempre parecchio. Quindi ha dato libertà a Quadrado appunto di sfondare sulla fascia e anche Alexandro ha fatto una grande partita, quindi direi che i migliori della Juve insieme anche a Rabiot, che è stato molto criticato, siano stati loro, quindi un'ottima risposta. Secondo me può essere anche, non solo una risposta al campionato, ma anche un inizio di ripresa in vista proprio della Serie A, vista la partenza pessima della Juve. Sicuramente deve essere un punto di partenza, cioè non toglie che la partita di sabato secondo me è di un altro livello e di un'altra importanza, sia per classifica, sia per i ragazzi, per il gruppo. Però ci arrivano bene dopo questa vittoria. Ci arrivano bene, bisogna ripartire anche perché poi ci sarà una sfida, niente male, Juventus-Milan con l'estate. Quindi che cosa puoi dire a questi dirigenti? Ha stata brava l'Atalanta, ha anticipato tutti, ha fatto il colpo a un portiere che per i prossimi dieci anni è una garanzia. Il problema ce l'ha soprattutto l'Inter, perché Andanovic, al di là del rendimento, è un giocatore che è arrivato a fine corsa, dovrà pensarci già da adesso l'Inter. Zenga, sui portieri abbiamo due pesi e due misure, ma soprattutto da un lato il Milan con Magnan si è sistemato. Musso-Atalanta perfetto, ma è la stessa Udinese che comunque ha venduto a 20 e ha preso a 3 o 4 sevestri, un ottimo portiere, mentre l'Inter e la Juventus devono sistemare il problema, perché Andanovic ha preso un po' questa discesa. Dall'altra parte invece Cesni sta facendo davvero tanti tanti danni. Assolutamente sì, ha detto bene Alfredo, l'Atalanta secondo me è riuscita a prendere l'occasione, aveva anche i soldi per investire comunque in un portiere, mentre io penso che siano due situazioni differenti, perché l'Inter ha l'obbligo di cambiare Andanovic anche per un dato anagrafico, mentre la Juve io credo che Allegri insisterà fino alla fine con Cesni, perché l'ingaggio è pesante e penso che sia un portiere che se recuperato possa garantire un certo rendimento a livello europeo e sicuramente non è il rendimento che sta tenendo adesso in campionato, quindi io penso che la Juve cercherà fino all'ultimo di recuperarlo e poi se così non fosse deve per forza andare sul mercato e adesso non è facile secondo me. C'è poco da aggiungere sulle prestazioni della Juventus, Inter e Milan contro Real e naturalmente contro il Liverpool e il Milan, c'è più attesa naturalmente per queste due partite, sono molto interessanti ed sono due gironi tosti, soprattutto per il Milan. Enzo Bucchioni, l'Inter e il Milan devono dare le prime risposte europee. Direttore? Sì, certamente, il Milan mi intriga molto perché è un girone complicatissimo, è il più difficile. Un Ancelotti che è tornato sul luogo del delitto e forse forse nel casino di quello che è successo dell'estate è stato il colpo di mercato migliore del calcio spagnolo perché sono riusciti a mettere quasi nell'angolo la Superlega, hanno preso Ancelotti, sono stati zitti tutti perché nessuno se lo aspettava, è arrivato l'uomo giusto, il punto giusto. Adesso vedremo cosa farà. Vediamo le immagini sia dell'Inter, la rifinitura da piano, ma anche del Real Madrid perché abbiamo seguito con Tancredi-Palmeri tutta la giornata prima dell'Inter, poi del Real Madrid con la rifinitura naturalmente a San Siro. Tancredi-Palmeri ci ha raccontato tutto nei dettagli. Poi sentiremo le parole nella seconda parte, tra poco, sia di Simone Inzaghi che di Carlo Ancelotti. Non è una missione impossibile, questo è l'Inter che si... Mi trovo ancora d'accordo con Mimo perché sicuramente è un Real un tantino ridimensionato rispetto al grande Real degli ultimi anni. Credo proprio che si possa fare, anche perché è una serata un po' di calcio romantico con due sfide classiche come Inter-Real Madrid e Liverpool-Milan. Credo che sia un bel banco di prova per l'Inter di Inzaghi. Dopo un buon inizio, anche secondo me, il pareggio con la Samp è stato visto con troppe critiche, soprattutto dopo il rientro dei nazionali. è un pareggio che ci può stare nel percorso. Quindi sono molto curioso, credo che se la possa giocare, servirà comunque una grande prestazione a livello difensivo, a livello offensivo, perché il Real dietro concede. Però credo che sia un bel banco di prova. Sentiamo le parole di Simone Inzaghi e poi anche quelle di Carlo Ancelotti, però prima l'allenatore dell'Inter...